Musica Benvenuti, oggi Medi in Romagna vi porta a conoscere Forlimpopoli, un luogo dal grande valore storico soprattutto per la presenza, per il fatto appunto che qui si trova Casa Artusi, il luogo che celebra Pellegrino Artusi, uno dei più grandi appunto possiamo dire studiosi di cucina, ma oltre a questo anche un bellissimo museo archeologico e tanto altro, una città viva e bella da vedere che vi porteremo a conoscere. Casa Artusi nasce nel 2007 all'interno di un progetto diciamo culturale, turistico, economico della città di Forlimpopoli. Il comune di Forlimpopoli è partito più di vent'anni fa mettendo a valore forse l'unica risorsa o comunque la risorsa più importante che ha questa città per questo territorio, con la festa artusiana, facendo ricordare chi è Pellegrino Artusi, perché questo manuale è in tutte le famiglie italiane, ma poi magari uno si scorda di averlo lì in biblioteca, quindi un libro che magari la nonna consultava, la mamma consultava, quindi un'azione potente per far ricordare agli italiani chi è Pellegrino Artusi. Poi è nata per l'appunto non soltanto nove giorni all'anno, come è la festa artusiana, che poi ci sarà fra poco, dall'1 al 9 agosto quest'anno, ricordare Artusi la sua opera tutti i giorni, tutti i santi giorni dell'anno. Chi è Pellegrino Artusi? Pellegrino Artusi si autodefinisce cittadino, buon cittadino e liberale, non avrebbe mai pensato di passare alla storia come il padre della cucina domestica, anzi ad essere sinceri lui forse avrebbe preferito passare alla storia come letterato, ci ha approvato, ha scritto due libri di letteratura, uno sul Giusti e l'altro sul Foscolo di scarso successo e poi, vecchio, all'età di 70 anni, ha cominciato a dedicarsi alla cucina. Come ci racconta la Marietta, questo libro l'ha cominciato quasi per scherzo, poi ha visto che gli veniva bene e effettivamente gli ultimi 20 anni, dai 70 ai 90, ha passato tutti i giorni a dedicarsi alla raccolta di ricette. Questa è una delle ragioni del successo del libro che ancora noi guardiamo, anzi è ancora pieno di informazioni, perché in realtà è un manuale non scritto, non tanto scritto per gli italiani, ma oserei dire scritto dagli italiani che hanno collaborato, hanno mandato ricette, hanno mandato consigli. Quindi, sostanzialmente, noi oggi celebriamo Pellegrino Artusi a 200 anni dalla nascita proprio come il padre della cucina domestica italiana, colui che ha saputo raccontare l'Italia, la vera cucina italiana, esattamente come cucina territoriale, quindi una visione nazionale. Lui ha un progetto politico e lo scrive anche nelle sue ricette. Lui vuole dare un codice gastronomico e anche una lingua agli italiani e lo fa in una maniera meravigliosa, raccontando ricette che ancora noi oggi consultiamo e prepariamo per la gioia di tutti coloro che vogliono attorno alla tavola celebrare l'amicizia, la convivialità e anche la salute. Siamo nel Museo Archeologico di Forlimpopoli. Che cos'è questo luogo? Allora, il museo è stato istituito nel 1961 grazie a Tobi Aldini, a cui è dedicato il museo, ed è stato direttore dal 72 alla 2003. Ha seguito come direttore la dottoressa Silvia Bartoli, che era collaboratrice già con Tobi Aldini, quindi frequentatrice, assidua di Forlimpopoli del nostro museo. È stato istituito su collezioni prodotte e allestite da Andrea Benini nell'inizio degli anni 30, sia a collezioni archeologiche che d'arte. Così è nato il museo, proprio come piccola chicca di Forlimpopoli, comunque curata con una professionalità scientifica da Tobi Aldini, in collaborazione poi, come si è avviata la sovrintendenza, quindi con tutta la collaborazione rispetto a quella che è la catalogazione e inventariazione. Nel 2013 si sono avviati i lavori di riorganizzazione dei percorsi museali, i nuovi allestimenti, che hanno portato a quello che poi potete vedere, e quindi vetrine nuove, un nuovo percorso espositivo, che permette al visitatore di fare una visita, un viaggio nel tempo, dalla prima sala, che è dedicata all'epoca protostoica e preistorica, fino all'arte rinascimentale, per arrivare poi a quella più moderna, con le ceramiche dell'Ottocento, ritrovate proprio negli scavi della rocca a Forlimpopoli, a fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Nel percorso espositivo possiamo vedere anche i resti della cattedrale romana, del primo e secondo secolo, distrutta nel 1316 dall'albornozza, sulla quale poi è stata istituita la rocca albornoziana. Qui ci sono anche le famose anfore. Allora, ci stimiamo fortemente delle anfore, che sono, che vedete alle mie spalle, e che sono proprio denominate anfore tipo Forlimpopolese. Hanno una caratteristica particolare, che hanno il fondo piatto, anziché a punta, come tutte le altre anfore che si trovano normalmente, che si vedono normalmente, perché erano anfore da vino trasportate su carri. Nel 73, Tobialdini ebbe l'intuizione, rispetto a scavi che erano stati fatti nel podere Fantini, che Forlimpopoli fosse veramente una città dedicata a fornaci e alla realizzazione di questi manufatti. Intuizione poi comprovata dai successivi scavi, che hanno portato veramente alla luce la realizzazione di queste anfore e l'esistenza di queste fornaci. Anche da qui il Covid è passato, come in tutta Italia, e anche qui ci si è dovuti adeguare ai protocolli regionali e ministeriali, ma non per questo venire a Forlimpopoli, a visitare i casartusi, a godere della buona cucina e a vedere il museo archeologico, oggi è più pericoloso. Anzi, vi mostreremo come si può tranquillamente andare a visitare questi luoghi in totale sicurezza. Come è stato gestito il periodo del Covid? Come avete fatto poi ad adeguarvi ai protocolli? Non è stato facile, come per tutti ovviamente. E poi non c'è dubbio che questa pandemia, come tutti sanno, ha colpito soprattutto la cultura, il turismo, la formazione, a cui è stato richiesto veramente un grandissimo sforzo per riconvertire la propria azione. Allora, noi qui in casartusi riceviamo tantissimi turisti, almeno 20.000, 30.000 all'anno, che vengono qui proprio incuriositi dalla cultura del cibo. e ovviamente quello che fa la differenza è l'esperienza dal vivo, cioè in persona tu riesci a trasferire delle emozioni che io non riesco neanche a raccontare, però ho proprio fissa negli occhi lo stupore di persone che vengono da lontano e trovano qui una realtà che non avrebbero mai immaginato. Quindi queste emozioni trasferirle in remoto, con un video, in streaming, e sto parlando ovviamente della riconversione che noi abbiamo applicato immediatamente, beh insomma diventa veramente molto molto più complicato. Certo è che noi comunque abbiamo continuato a lavorare, ovviamente sospendendo cose, adeguandoci alle normative, ma abbiamo continuato a lavorare con tutti i nostri partner che abbiamo in giro per il mondo, quindi abbiamo fatto tantissime dirette, tantissimi collegamenti in Minneapolis, piuttosto che Toronto, e tutti quelli che ci chiedono. E devo dire che ci stiamo preparando fortemente per la settimana della cucina italiana nel mondo, assieme alla regione Emilia Romagna che ci accompagna, anzi ci conduce in questo, e la Farnesina, per cui abbiamo già dagli istituti italiani di cultura nel mondo, e anche dalle reti diplomatiche, tantissime richieste per fare ovviamente corsi di cucina, lezioni, che sono diverse da tutte le altre, perché in realtà oltre alla parte pratica, che non manca mai, c'è un forte approfondimento culturale fatto dagli esperti, i grandi esperti del nostro comitato scientifico, e soprattutto quest'anno, anche la settimana della cucina italiana del mondo, comincerà con Artusi, quindi stiamo realizzando, cercando di realizzare, insomma, assieme alla Farnesina, proprio una spot e un video che parli di Artusi, proprio come grande ambasciatore della cucina italiana. Quindi un lavoro potente, a mio avviso, per questo territorio, che ovviamente facciamo con grande passione, perché assieme a noi abbiamo veramente tantissime persone, enti, istituzioni, a partire dal comune di Forlimpopoli, che ci aiuta in questo, ci sostiene, per fare un lavoro che va a beneficio, almeno della nostra amatissima Romagna. Il museo cosa ha fatto nei mesi del lockdown? Poi è stato difficile adeguarvi ai protocolli? Allora, il museo chiaramente si è chiuso per il periodo necessario. Al momento la gestione è a Ravenna Antica, al Parco archeologico di classe. Ci siamo incontrati con il direttore del museo, abbiamo fatto insieme questa valutazione. Riaprire a giugno, anche sicuramente segnale importante, perché comunque vuol dire il riavvio di tutti, però per un museo come il nostro, in cui, nel momento in cui ancora la frequenza era data dalla personale locale, non aveva molto senso e quindi si è preferito aspettare la repertura ufficiale a settembre. Il museo, e abbiamo trovato un altro modo di aprire il museo, quindi il mercoledì sera e il giovedì sera abbiamo dei percorsi animati nella città dove la partenza è al museo, quindi una sera dedicata ai pezzi che sono dedicati al cibo, l'altra sera la parte fornipopoli romana e questo è uno. Il giovedì sera ci sono le iniziative fuori sera e il museo aperto. Per la festa artusiana, e colgo l'occasione, dal 1 al 9 agosto l'amministrazione ha tenuto a organizzare comunque la festa in occasione anche del 4 agosto, bicentenario dell'anniversario di Pellegrino Artusi e quindi il museo sarà aperto con percorsi e ci saranno visite guidate, vedete la mostra allestita a Turo Peretoro dell'autore forlivese San Savini, tutti i pezzi costruiti con le navi depositate a Lampedusa dei migranti e quindi ci saranno visite guidate a questa mostra, visite guidate al museo e il museo sarà aperto quindi anche in tutte le altre iniziative che fuori in popoli si faranno e quindi si è trovato quest'altro modo comunque di far vivere il nostro museo. Grazie a tutti.